Un dono inatteso e pieno di stupore proprio alla vigilia della solennità dell'Epifania. Proseguendo l'esperienza dei cosiddetti venerdì della misericordia, Papa Francesco si è recato in visita presso la sede di Palidoro dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, a circa 30 chilometri da Roma. Una vera festa per i piccoli pazienti della struttura nata nel 1978 grazie a Paolo VI che non solo hanno ricevuto la carezza e l'abbraccio dell'uomo vestito di bianco ma anche doni come vuole la tradizione. Il pontefice ha visitato diversi reparti riservando un sorriso speciale a quanti pur così prematuramente devono affrontare prove tanto dolorose e conforto alle famiglie. La visita a sorpresa di Papa Bergoglio è stata anche occasione per rivolgere il proprio grazie a medici, infermieri e tutto il personale della struttura. Grazie a tutti.